disponibilità. Paolo sei un grande, i tuoi panini, porca troia, ti sono buoni. E niente, noi siamo i Druid, portazione a tre per chi non ci conosce è una cosa normale, invece per chi ci conosce da un po' è una novità sostanzialmente. E abbiamo... Esatto, cincio e nudo, sempre. Abbiamo in corso d'opera altri pezzi, però oggi ne abbiamo portati cinque nuovi, tre vecchi, facciamo un po' di misturotto, stiamo insieme un'ora e mezza e quindi spero vi divertiate con noi. Ovviamente l'indica lì su un angolino è quello che è rimasto del 2020. Abbiamo una storia un po' tragica, nel senso che dovevamo uscire con le P il 24 febbraio del 2020 e quindi il nostro release party è andato un po' a battracche e vabbè. E non fa niente, noi siamo sempre qua e ci teniamo a farvi sentire la nostra musica. Direi di alleggerire la situazione con una bella cover, nel dubbio, così anche noi ci rilassiamo un attimo. Se non conoscete il pezzo lo imparate, se lo conoscete lo capirete da una notte di ciccio. Un po' di movimento ci vuole. E' un po' di movimento ci vuole. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.